E' un evento particolare, questo si, questa è l'unica cosa giusta che han detto, perché a questo evento ci crediamo per davvero, è la prima volta che ci ingaggiamo, come dicono i loro esperti di social, con voi e quindi la reputiamo veramente una giornata speciale. Ho già affermato che molti di voi hanno potuto ammirare in Formula 2, lo scorso anno e che da quest'anno è il terzo pilota della Ferrari. Lui è davvero bravo, però volevamo portare anche qui un rookie, quindi uno alle prime armi, uno che ha appena cominciato a guidare e chi meglio di Arturo Merzario. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a voi. Ha scoprito poi un oggetto, Alfa Romeo, che è il mio viso. L'Alfa Romeo in questi anni sta ritornando a essere l'Alfa Romeo. Crediti. La nostra più bel marchio del mondo, quindi non c'è niente di meglio di questo. Siamo un gruppo di persone affiatate, cerchiamo di fare ciò che è giusto per questo lavoro, il nostro trend e di cambiarlo grazie anche agli stimoli che riceviamo dal nostro capo, che ci aiuta a portare questo cambiamento. Ed è un cambiamento che non si fa da soli, ci vuole una bella coesione. Quindi adesso tiro un bel pacco a tutti i ragazzi, tutti i ragazzi del mio team, tutti giù. Veniteci. Oh, così noi ci presentiamo. Così ci presentiamo tutte le persone che lavorano, cioè, parte delle persone che lavorano con Alfa Romeo, ci sono tante che lavorano in generale Ammonia e in fabbrica Cassino. Loro rappresentano una parte del team. E' una granella. Come vedete, sono tutti giovani, immotivati, tutti affizzati, tutti belli. E' anche tutti belli. E' anche noi ci sono 3, 2, 1, 4. Noi ci sono 3, 1, 4. Noi ci sono 4, 2, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, redevano. Pagano! 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 Un hundred! Pagano senza guerra e non ne candles! Nonastrevano! N passe questo NonAB shirt ed il suo malatt é un grande witit verfano. Grazie.